Ciao a tutti, in questo video corso tratterò l'argomento struttura narrativa e storytelling che può essere applicato a qualsiasi tipologia di film, dal cinema, documentario, video pubblicitario fino al matrimonio. Su quest'ultimo porterò anche degli esempi pratici sia nella costruzione in preparazione che poi in editing. Nel corso andremo a analizzare qual è il DNA della struttura filmica, quali sono i pilastri fondamentali per costruire una storia e quali sono le chiavi per rendere funzionale la struttura. Analizzeremo in fondo anche lo storytelling e cercheremo di capire come deve essere applicato in modo funzionale alla storia. Ci saranno anche degli esempi pratici sia su come raccogliere tutte queste informazioni e poi su come applicarle in fase di editing in timeline. Alla fine di questo corso sarai a conoscenza di tutti i segreti per poter realizzare una struttura narrativa con storytelling che sarà possibile applicare a qualsiasi tipologia di lavoro e che non richiede conoscenze particolari ma può essere applicata da chiunque. Per tutti i soci ANW l'abbiamo inserito nel contesto di ANW Academy ad un prezzo molto particolare perché sarà scontato del 50% rispetto al prezzo di vendita standard perciò approfittatene subito. Ciao